Ho chiesto di intervenire il Consigliere Sassi, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ho sentito negli interventi di poco fa che la Commissione da noi richiesta sarebbe rindondante rispetto alla terza che si occupa appunto di temi ambientali. In alcuni casi può anche essere vero, ma l'efficacia non è così palese della terza Commissione, almeno nel passato. Se ora saremo in grado di farla rendere effettivamente meglio di quanto è stato fatto in passato rispetto alle emergenze, all'eccezionalità, più che all'emergenza, che stanno diventando sempre meno emergenze e sempre più prassi, degli eventi che hanno toccato ora anche in maniera pesante la nostra Regione, lo vedremo in futuro. Io non credo, visto che sia un problema avere una Commissione speciale che vada ad agire, al di là delle calendarizzazioni o meno, degli impegni che ognuno di noi potrà avere in quelle Commissioni, vada ad agire approfondendo temi anche molto più tecnici di quanto una Commissione composta da consiglieri eletti possa fare. Sperando ovviamente che, siccome a quanto mi sembra di capire, il Partito Democratico voterà contro, si spera almeno che, per quanto riguarda il lavoro ordinario della Commissione terza, ci si avvalga di risorse, possibilmente non a titolo gratuito, per quanto sarà possibile, di tecnici e di consulenti super partes che possano permettere un approfondimento serio di quelli che sono gli interventi necessari e delineare esattamente quello che è il quadro della situazione dei nostri territori. Grazie.